e allora ragazzi mi trovo a palazzo carignano torino museo del risorgimento questa è la sala della prima guerra mondiale cosa dovete fare voi beh vi affiderò un documento e a ciascuno di voi dovrà decifrarlo codificarlo spiegarlo alla classe nel frattempo vi faccio vedere quelli che sono dei cimeli della prima guerra mondiale questa è la divisa italiana la divisa di un ufficiale tenente ufficiale italiano soldato semplice statunitense divisa del corpo dei caribaldini effettivamente non era tanto adatta per prima guerra mondiale ricostruzione di una trincea questa era una bomba tedesca molto piccola hobbice l'equipaggiamento di un fante corazza mitragliatrice hobbice allora la torino è tutto tocca a voi mi raccomando vogliono delle bellissime esposizioni per quello che era l'italia e l'europa nella grande guerra la grande carneficina terribili è tutto a voi mi raccomando voglio di un ufficiale Grazie a tutti. Grazie a tutti.